Arrivano concentrati alla spicciolata gli uomini di Simeone, sfatare Firenze il primo obiettivo, ognuno con le sue scaramanzie ma con un pensiero comune, battere Mijajlovic e la Fiorentina. Partenza bagnata speriamo, partenza fortunata, ma a prescindere dai giochi di parole il Catania deve vincere, lo deve fare, solamente zero nella casella vittorie per quanto riguarda il rendimento in trasferta e soprattutto un franchi stregato e il Catania parte proprio da qui. Un giorno prima Simeone vuole la squadra concentrata per beccare questi benedetti tre punti. Di trovare un Catania aggressivo è voglioso di conquistare i punti. Dobbiamo andare a Firenze per far risultato pieno, abbiamo le capacità, le possibilità e sta a noi di mostrarlo però sul campo. Cosa dirai se dovessi dargli un dispiacere? Mi dispiace per lui e gli auguro che gli faccia un grosso in bocca al lupo, ma da questa partita in poi. Per ora dobbiamo pensare a fare i tre punti e quindi gli dobbiamo dare un dispiacere enorme. Grande rispetto per lui, perché lui è stato a raggiungere qua e si è arrivato a squadra, però domani vinciamo noi. Motivazioni a Gogoma, soprattutto rabbia, la stessa febbre permettendo per Adrian Ricchiuti. La vincizia e la partita contano poco, a fine partita ci salureremo come sempre. Sei un cavolato nero come domenica scorsa, come dice Simeone. No, spero, sono a febbre, quindi spero. Mi dici solo cosa dirai a Mijailovic, l'unica frase che gli dirai? Niente, adesso niente. Check-in completato, il Catania si imbarca verso Firenze con la speranza di portare qualcosa di importante, sempre Mijailovic permettendo il recente passato che si scontra con... Grazie. 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 Grazie.